Mister, forse aver avuto due risultati su tre vi ha penalizzato dal punto di vista psicologico? Ma guarda, ora Caldo sinceramente non te lo so dire, non è stata una partita bellissima, poche occasioni sia da una parte che dall'altra, come la partita di campionato è stata una partita bruttina. Poi come avevo detto in precedenza, loro hanno delle individualità, calcio da fermo, e Ghiglia l'ha messa dentro, 1-0 per loro, passa a loro, complimenti a loro. Peraltro la prima sconfitta stagionale in casa della Superba arriva proprio nei play-off. Eh sì, è vero, era da aprile l'anno scorso che non perdavamo in casa, abbiamo perso, abbiamo la mare in bocca, abbiamo perso due situazioni in un colpo solo, quindi no niente, a prescindere dalla delusione del momento, perché ovviamente ci sta, però devo ringraziare i ragazzi, l'obiettivo come ho detto sempre, sono i play-off, ci siamo arrivati, perdere fa male, non nego, e quindi niente, va bene così nel senso. Ti faccio un'altra domanda, perché se voglio chiederti che la superioretta numerica è stata un'altra di fattori che forse vi ha scaricato psicologicamente. Sì, è vero, è vero. Abbiamo avuto un momento dove non ci abbiamo capito niente, invece di essere più concentrati e fare il nostro solito gioco, siamo andati in palla. Merito al Marassi, che si va a fare sta finale, e a questo punto speriamo che vada allora. Grazie.